Sì Buongiorno a tutti i miei amici per scattarci una splendida canzone, in cui mi guarda sempre, mi sembra di farla, Lisa, la canzone di Marta, sempre, c'è la canzone di Marta e di Rita. Buongiorno a tutti i miei amici. 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 Grazie a tutti. Questa sera vi presento il mio carissimo amico e il vicepresidente della federazione delle associazioni relazionali in Argentina, Reinaldo Pelanzori. Grazie, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.